che hai fatto? un po' come marchettino quando ha acceso l'F40 no? stiamo sempre in lista ma te rendi conto un po' di luce un po' di luce? e vuoi far fumare? un po' di gas gli diamo un po' di gas un pochino di gas serve sempre senti il gas serve sempre mamma mia va meglio di Rolex erano qua? erano qua il cinquino dammela con l'iPhone dammela sono esattamente era il 1991 che non guidò è dal 91 che non guidò un cinquino il 91 è sempre dato con l'iPhone era sempre indietro? tutta giù spingi giù tutta indietro no? aspetta no 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 non l'accetto ecco non l'accetto è stupenda è sempre indietro è sempre indietro facciamo il tacco punta e 500 1970 2 dicembre sempre 2 dicembre prodotto italico oggi siamo andati a ritirare a pagare il cinquino da big and bad e questo è in assoluto il primo video della storia nel padre di tutti i cinquini è una è tipo un balletto abbiamo qui prodotto teotonico che snaptica ci fa strada ci fa strada allora non le ho fatte passare eccolo qua ce lo siamo messo nel cappello si è cagato sotto il primo temporario e la doppietta e secondo te sto male abbiamo rischiato da passare due roiti perchè tratta i due roiti effettivamente e di essere presi in retroparcia d'arte tonico e lui adesso è perlatissimo è perlatissimo ma secondo te stavo male stavo male stavo male devo capire quanti metri è in la strada il sedile fa avanti e indietro che snau 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 ma che stavo come si chiama? come si chiama quello che cosa? no perché fai di questo? come si chiama quello la per il 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 vocatore ma che stavo a fare? sei un carottiere sei secondo te sto male ci sto capicando sono emozionato come marchettino nella Enzo adesso me la guido bella per te e te che ti faccio la stanza sul prodotto italico e lui va in bicicletta noi stiamo con il prodotto italico Debraio Spalanca mo me la guido tutta quanta sul corso Francia senza video perché questo si sta senti male e il teodonico e il teodonico si stava appoggiando e il teodonico si stava appoggiando e adesso avanti a noi e il prodotto spazza Debraio di una vita tutta la vita bella per te strumentazione più bella del mondo quanti batti DJ? ok hai fatto tanto ho visto dentro ma vai